L'obiettivo di questo workshop è di ampliare il concetto della protezione nei riguardi delle azioni eccezionali, comprese l'azione sismica. Ampliarlo significa andare oltre la sola valutazione della sicurezza ma anche valutare quelle che sono poi più ad ampio spettro le conseguenze troppo nefaste di eventi eccezionali. Quindi si parla di resilienza nel momento in cui si va a valutare tutto l'intero processo di recupero della società, non solo dal punto di vista tecnico, dopo appunto eventi calamitosi. Ci sono alcuni aspetti chiave per migliorare la resistenza, cioè la facilità, la possibilità in poco tempo, in pochi anni di tornare a livelli di prestazioni dei servizi pre-incidente. Tra questi un tema fondamentale è quello della robustezza delle strutture. Questo sarà in particolare il tema su cui io mi focalizzerò, in particolare sulla robustezza. Il CNR ha appena emesso un documento, secondo me, molto rilevante, dove hanno operato moltissimi colleghi universitari e si parla di robustezza quando a livello anche di singoli edifici si riesce a limitare i danni all'edificio causati da un evento eccezionale. Questo può essere un evento sismico, può essere anche un'esplosione, può essere un attentato terroristico. Quindi la struttura deve essere in grado di limitare i danni, che saranno ovviamente enormi nella zona colpita, ma limitati in estensione. Ecco, questo sarà in particolare il tema che io tratterò e sarà uno dei tasselli, ovviamente, che servono per far sì di avere una struttura che partecipi ad un sistema resiliente, appunto nel quale, a seguito poi di un evento, in pochi mesi possibilmente si riesce a recuperare l'intera funzionalità. Ovviamente questo aspetto per gli edifici strategici è importantissimo e sarà appunto il focus del mio intervento. Ci sono esperienze e casi concrete al riguardo? Eh, sicuramente. Molti degli edifici strategici adesso vengono proprio progettati, soprattutto a livello internazionale, appunto con questi concetti. L'idea, soprattutto, è quella di dare, definire dei nuovi elementi strutturali che riescano poi a costruire dei nuovi percorsi di carico, nuovi percorsi di equilibrio nel momento in cui, per esempio, vengano a mancare dei pilasti in una struttura. Questo, per esempio, è uno dei casi che tratterò, è il caso famosissimo dell'incidente al Pentagono quando l'aereo, durante le giornate delle torvi gemelle, fu colpito e il danno fu assolutamente limitato a una zona piccolissima, pur se c'era stato l'intero attraversamento di un aereo all'interno del fabbricato. Ecco, questo è un caso in cui, e farò vedere come appunto è stata progettata la struttura del Pentagono, proprio per resistere a questo tipo di interventi. Invece ci sono purtroppo anche casi negativi, un altro caso che tratterò sempre negli Stati Uniti, in Oklahoma, dove uno scoppio di una bomba di dimensione limitato ha provocato il crollo di più di metà del fabbricato di 10 piani.